Vi auguro una buona giornata con questo messaggio, energia guaritrice. Le tue doti naturali di guaritore energetico sono una parte importante dallo scopo della tua vita. Le tue mani sono simili a canali energetici che guariscono gli altri. Pensa a quante volte hai posato le tue mani su qualcuno che soffriva per un dolore o per un acciacco, incluso te stesso. Questo atto istintivo è per te così naturale che potresti non avergli dato alcun peso o importanza. Ora è giunto il momento di incanalare la tua energia guaritrice verso una direzione professionale. Forse sarà necessario prendere lezioni per approfondire le tue conoscenze e aumentare la tua sicurezza. Ciò che conta è mantenere l'intenzione di trasformare le sessioni di energia guaritrice in una carriera professionale. Una volta che comunichi senza alcun timore le tue intenzioni all'universo, i clienti ti contatteranno. Inizialmente potresti condurre una sessione gratuita per gli amici o familiari. In breve tempo, attraverso il passaparola e il tuo impegno, potrai dare inizio a un'attività privata o all'interno di un centro benessere. Quando inizi il lavoro con l'energia guaritrice, ricorda di mantenere la tua mente e il tuo corpo sani attraverso uno stile di vita adeguato. Se ti prendi cura di te, aumenteranno anche le tue risorse fisiche ed emotive. La tua energia è l'elemento chiave perché i tuoi sogni si avverino rapidamente. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.